Mastro Lindo, dormi su... sul poggiapiedi, Mastro Lindo, ma perché? C'è un letto per tutti, eh? Guarda, c'è un letto vuoto, Mastro Lindo! Ma lui vuole essere vicino all'azione, vicino allo sporco, per aggredirlo, appena si alza la mattina. Cari amici, carissimi amici dell'Anglo del Gameplay, finalmente, finalmente dopo un'attesa lunghe... decenni, se non centinaia di secoli, siamo tornati su The Sims, siamo tornati con una raccolta degli scarti storici di questo mondo. Andiamo lì a vedere subito insieme, andiamo a vedere subito insieme questi grandi interpreti, possiamo vedere subito qui una giovane, e non ancora signora in giallo, una Jessica Fletcher, da altri tempi, letteralmente. Qui abbiamo, nel tutto il suo splendore, in tutta la sua magia, una buona gallina rosita, una grandissima stratega, una grandissima amante mondiale, amante di chiunque. Qui abbiamo, invece, con questo sguardo dubbioso, che guarda lo sito e dice ma non saprei un grande, inimitabile Tutankhamon, che ci porta in Egitto col pensiero, perlomeno. Qui abbiamo, guardate già, una piccola faida tra i due, sembra, sulla sinistra, tutto in bianco, chi se non l'incredibile Mastro Lindo. E, attenzione, questo figurino superlativo, non è nient'altri che il buone Napoleone Bonaparte. E allora, insieme a questi scarti, si appropinquono, si avvicinano, a questa casa che, a un occhio inesperto, potrebbe sembrare una casa di merda buttata insieme alla bene e meglio, perché mi sta per scadere l'abbonamento EA Access e perderei questo favoloso gioco, ma a ben guardare è proprio così. Allora, non abbiamo ancora Capitan Findus, perché Capitan Findus entrerà distraff... Così Capitan Findus entra come la pinna del torrone delle acque del Pacifico e entrerà così, qualche giorno dopo, l'inizio della convivenza di questi grandi ragazzi. Diamo un'occhiata velocissima alla casa, così giusto per vedere. Qui abbiamo, sulla destra, la camera da letto, designer Jessica Fletcher, che ha deciso di buttarsi su un rosa completo, che vediamo almeno le pareti, un rosa completo. Qui sulla sinistra abbiamo una sala, così, sala TV moderna e orripilante, costata un sacco di soldi senza alcun motivo, una sala da pranzo altrettanto moderna che non dà posto a tutti per mangiare, quindi qualcuno dovrà attaccarsi al cazzo. Qui abbiamo un salotto designer, Napoleone Bonaparte, che ha detto, ah, qui facciamo una cosa d'altri tempi, ha detto il buon Napoleone, giustamente. Cucina di alto livello, con sporta esterna per dar da mangiare a chiunque passi, perché qui si intrattiene in ogni modo il pubblico, ragazzi miei. Poi una piccola zona esterna molto bruttina. Se andiamo al secondo piano, vediamo che ci sono qui dei... Ah, ma la parte più importante, sempre, designer Napoleone, che ci ha detto, ah, qui ci vuole, lui ha detto, non è meglio, si potrebbe, lui ha detto, ci vuole il giardino interno, perché a Eversailles si fa così, va bene. Abbiamo detto, fai come cazzo che vuoi, stupido, stupido nano. E qui dopo sopra abbiamo un piccolo spazio con una antica armatura che usava il Napoleone stesso, e poi dopo qui una piccola seggiata, quindi assolutamente niente, perché non avevamo più soldi, quindi... Vediamo cosa faranno questi scarti della natura, se lasciati soli a loro stessi. Buonissima Jessica Fletcher. Jessica Fletcher, attenzione! Subito abbiamo il primo... Il primo plot twist è qui, Jessica Fletcher in gioventù era una ladra, qui è un capobanda, che guadagna 17 simoleon all'ora. Andiamo a vedere invece Rosita, cosa fa? Una fornitrice di catering, la buona Rosita, prepara le uova per il catering, ci sta. Il buon Napoleone è una mascotte, Napoleone... Napoleone è una persona così a modo, una persona così seria, le persone no così fine, va invece a fare la mascotte delle squadre di basket o di calcio o di quello che cazzo è. Tutankamo non fa un cazzo perché è un vecchio di merda e quindi non lavora. Il buon Mastrolindo è un programmatore newbo. Mastrolindo mi sorprendi, programma il pulito, sta facendo un software per pulire le case senza bisogno di fare le pulizie in uno spazio fisico. Lui cerca di programmare le molecole dell'universo per autopulire le abitazioni, complimenti. Io direi subito di cominciare Tutankamon, trovati una carriera ragazzo mio, trovati una carriera. Quoco freelance, influ... Beh, che è il buon Tutankamon se non un influencer di stili? Ce lo vedo benissimo a influenciare le giovani. Attenzione, cosa stanno facendo? Stanno flirtando? Flirtando, filtrando quando filtri qualcosa al massimo. Stanno flirtando? Con che flirti, Rosita? Con Napoleone! Attenzione! La gallina sull'isola di Sant'Elena! Che sta gente? Ah, ci vengono a salutare, ma noi non andiamo a aprire la porta! Sarà che non abbiamo comprato nessun campanello, potrebbe anche essere quello. Ecco, a proposito, ragazzi, mettiamo magari... Non so se ce l'abbiamo o no, controlliamo un attimo. Un bel rilevatore di fumo qui da qualche parte, giusto per non uccidere i nostri buoni amici. Tutti flirtano, ma cos'è un... Io pensavo di fare una partita The Sims, stiamo facendo una partita a... 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 a un porno? The Sims, you porno e lish, tutti che flirtono si vogliono portare a letto a vicenda, ma... Eh, qui li abbiamo fregati, non esistono letti matrimoniali! Toh! No, siamo contro la riproduzione non autorizzata, ragazzi. Eh, cucina, rilevatore di fumo, no, giusto per... cos'è questo? Controllo del sistema antincendio... addirittura, no, beh, beh, è solo un allarme antincendio che qualcuno... Cioè, lasciamo la possibilità... dico, di morire bruciati, però al tempo stesso, no? No, diamogli un aiuto. Mi combina Tutankhamo che va, leggi, si informa, bravo Tutankhamo, vedi? Per quello che era diventato faraone, mica per cazzi, voglio dire. Anche se è un po' anziano, vedi? Tutti flirtono, lui è incazzato Tutankhamo, perché? A disagio, cosa c'è che... Osteria, osteria, che piccolo incidente che ha fatto la zia. Ci siamo dimenticati di mettere il bagno, ragazzi. E beh, lo mettiamo esterno, facciamo un bagno, sempre Napoleone se ne incarica, voglio dire. Che dice, beh, allora, visto che ormai ci ho preso il gusto a fare le cose, facciamo un bel bagno esterno, eh? Come si usava una volta, lo mettiamo tipo qui, un bel bagno, ma bello grosso. Bello grosso, però per entrarci devi per forza andare da fuori, senza finestre. Così la puzza resta. Un bel bici, eh, ragazzi, il bici più screcco che esiste. L'ambasciatore, perché no? Poi mettiamo anche una bella docceriella. Bella docceriella, capina, doccia aperta e grezza, perché no? Mettiamo anche una vasca perché il buon Napoleone dice no. Beh, perché? Dice, le bagno, le vasche. Por favor. Va bene. Niente lavandino, così chi va in bagno non si lava le mani prima di uscire. Ci tengo. Mettiamo una cosa mai vista. Palloncini, bellissimo. Un bagno così, orripilante, ma a suo modo affascinoso. Mettiamo un attimino, una bella carta da parati dentro, un qualcosa. Linea di conficcino. Mettiamo rosso, un bagno particolare, diciamo. Eccolo qui. Poi, come pavimentazione, io qua vi stupisco. E mettiamo la cosa più schifosa possibile da mettere in bagno. Una bella moquette. Una bella moquette, orrenda, bellissima, strepitosa. Una bella porta a vetri. Così chiunque da fuori può vedere ciò che avviene in bagno. C'è un po' capraio, sì, ma non ce ne sbatte un cazzo. Tutti flirtano tranne Mastro Lindo. Alla fine salta fuori. Mastro Lindo è un uomo completo. Un uomo che non ha bisogno di altri esseri umani attorno a sé. Non ha bisogno di trovare l'amore. Lui è già innamorato del pulito. Non ha bisogno di tutti. Tutti flirtano veramente. Ragazzi, mi ha fatto un po' schifo comunque. Rosita è ispirata. Al cesso? Rosita, trovi l'ispirazione sul water. Water, Rosita, i miei complimenti. I miei complimentissimi. Rosita, anche tu sei stanca. Però tu devi occuparti del catering. Quindi, servi la cena. Servi la cena. Servi un bel po' di formaggio grigliato. Eh, lei fa le uova al formaggio. Poi le fa, riscaldo due secondi. Le fa bollire. Mi tiro sulle maniche perché qui, ragazzi, bisogna stare, eh. Belli tosti, belli concentrati. Vai, Rosita. Vai, Rosita. Vai, Rosita. Non ci... Non ci... Cosa fa tutto un camo? Ho visto un attimo Mastro Lindo. Scusate, ho visto Mastro Lindo mangiare così a... Dal piatto, col piatto direttamente. Ti dormi sopra le coperte. Non ti metti il pigiardo. Anche... Beh, Rosita è una gallina, voglio dire. Guarda, Mastro Lindo, invece, instancabile. Cosa cazzo fai, Mastro Lindo? Dove sei? Mastro Lindo. Dormi su... Sul poggiapiedi, Mastro Lindo. Ma perché? C'è un letto per tutti, eh? Guarda, c'è un letto vuoto, Mastro Lindo. Ma lui vuole essere vicino all'azione. Vicino allo sporco per aggredirlo. Appena si alza la mattina. Giusto, Tutankamon. Bravo. Va a rubare un piatto già smuzzicato che puzza e lo mangia. E arriva... Arriva... Jessica Fletcher e glielo porta via mentre lo stava mangiando. Ma che... Ma che... Che cazzo combinate, ragazzi miei? Che cazzo combinate? Vorrei sapere. Ma non potete andarvi a sedere e mangiare con calma? Tutti... Oh, tutti su sto divano ormai... Napoleone, ma si... Ma che vergogna, ma si vesta! Voglio dire, si vesta! Buon Napoleone. Rosita? Non va a lavorare. Rosita deve andare in bagno ma sta andando a letto. Rosita ha una scelta... Vabbè che le galline cagano dove dormono, eh ragazzi miei? Dobbiamo comprarci un... Un divanetto in più da mettere qui così non possono stare tutti seduti. Oppure no, eh? La tortura delle... Delle 100 puntate di Beautiful in piedi. Che devi guardare 100 puntate di Beautiful ma stando in piedi. Non puoi dormire, non puoi fare niente. Anche Napoleone. Vabbè con Tutankham, vabbè si intendono tra dittatori, tra... Tra condottieri, voglio dire. Sono proprio dittatori, condottieri, diciamo. Attenzione! Tutankham, vai a lavorare? Come vuoi dire cosa desideri fare? Cazzo, vai a lavorare brutto vecchio pazzo. Sì, prendiamogli qualcosa... Eh, non abbiamo soldi. Appena abbiamo due euro, eh, gli prendiamo qualcosa da fare. Cazzo, degli scacchi. Un tapirulano, voglio dire, che lo mettiamo qui. Così quando uno fa allenamento sveglia tutti, voglio dire. No, cominciamo a fare... Un po' di bordello, voglio dire. Anzi, ti dirò di più. 900 un tapirulano. Beh, allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Questo tivanetto del cazzo varrà un bordello, però... Trova... Trova di capitolo. Ah, sai cos'è che vale un bordello? Che vale un sacco? Il coso su... No, vai, lascia perdere. Il... La statua su, ragazzi. La statua di Napoleone. E la vendiamo di nascosto. Lascia stare quello. Vendi la statua di Napoleone. Guarda, qui sei mila! Napoleone, ma sei fuori! Uno non lo... Eh, ci mettiamo tipo un coso da... Da allenamento tosto, allora? Potremmo levare un letto, effettivamente. Andrano a ruso. Beh, mettiamo qui, guarda. Ci sta... Ci sta a cappella, proprio. E a pelo, proprio. A pelo. Mettiamo... Eh, una bella scacchiera, no? Con due seggiole del cazzo. Voglio dire, sì, non da studio, ma da seggiole normali. Beh, anche da chi se frega. Eh, due seggiole tipo... Così, no? Due seggiole del cavolo. Bianche, perché le mette Mastrolindo, voglio dire. E via, che riandiamo, no? Che abbiamo reinventato completamente la casa, ragazzi. Così abbiamo un po' da fare. Qualcuno... Chi si vuole allenare si può allenare. Chi vuole andare a fare in culo può andare a fare in culo. Dico bene, Napoleone. Parla con Jessica Fletcher, ma si intendono proprio la grande, direi. Flirtante, ci sto provando. Ci provi, Napoleone. Che vergogna, che vergogna, Napoleone. Bravo, vai in bagno. Piatto poco cotto. Attenzione. Fermo a tutto. Un cliente insoddisfatto è rimanato indietro a un piatto non abbastanza cotto. È immangiabile. Rosita può scegliere due linee di condotta. Cucilarlo nel forno a microonde o ricominciare la cottura. Rosita la rifà da capo. E... Sa che... Sa che... Sa che... Conquisterà il mondo. È flirtante. Con che flirti? Scusami, con i pedoni? Sì, sei normale. Tutankamon è tornato e ha portato un po' di denaro. Sono contento per te, Tutankamon. Sta lì, fermo. Attenzione. Tutankamon prova a parlare con chiunque passa. Proprio con i vecchi. Cioè... Napoleone è concentrato. In una partita scacchi... Tutankamon sfidalo. Sfidalo. Partecipa a Tutankamon. Sfidalo. Sfida Napoleone. Sfida tra grandi strateghi. Chi vincerà la partita? E se ne va Napoleone. Ha paura. Napoleone si cacca sotto. Dice no, io con Tutankamon non ci sto. Vado a flirtare un poco. A disagio. Perché fa schifo la cucina. Arriva Mastrolindo che la sistema. Guardalo, guardalo. Guardalo, Mastrolindo. Vieni, Mastrolindo. Sistema la cucina. Mastrolindo. Sistema la cucina. Sbatti il cazzo. Mastrolindo va in bagno. Probabilmente. A disagio. Tutti in bagno. Aspettalo davanti alla porta. Che non dà fastidio per niente. Perché la porta non si vede attraverso. Meno male. Guardate il cazzo. No, ragazzi. Che schifo. Che schifo. Ma andate a pulire. Mastrolindo. Lei mi delude. Mastrolindo. Vada a pulire il vater. Per cortesia. Mastrolindo. Entra. Mentre si fa la doccia a Tutankamon. Non curante. Tutankamon giustamente. Penso sia imbarazzato. E qui. Mastrolindo ha visto il vero faraone. Ha visto il mio sarcofago. Pulisci. O buon uomo. Un sarcofago vecchio di 300 anni. Insomma. Non è il tuo. Bravo Mastrolindo. Guarda come ci dà. È abituato. Sa qual che deve fare. Sa dove andare a colpire lo sporco. Bravo Mastrolindo. Fiero di te. Rosita. Se puzzi. Non è che puoi. Cioè. Si spiuma. Per andarsi a fare il bagno. Tutti in fila. Beh. Naturalmente. Un bagno solo. Cinque persone. È quello che volevamo. Creare del disagio. Creare dei problemi. Dare fastidio. Cazzo. Dare fastidio. Brava Rosita. Che ha fame adesso. Ma deciderà di andare. A insultare lo specchio. Quindi insultare se stesse. Dire vaffanculo. Insomma Rosita. Se qualcuno potesse mettere a posto la cucina. Ognuno viene. Si prepara un piatto. Si prepara sporca dieci padelle. Per prepararci un piatto. E poi non lo puliscono mai. Oh no Rosita. Cosa stai facendo? Vai a giocare a scacchi? Non sapevo Rosita che. Fosse una scacchista. Cosa fai? Già sicka e fleccire di buo. È andata a allenarsi su. Cazzo se lo siamo persi. Che peccato. C'è andata a prendere. Beh dopo un allenamento. Una bella partita a scacchi con Rosita. Per allenare la mente. E via. Una bella drinkata. Perché lei ha un po'. Ha sti problemi di alcolismo. Un po'. Vai Rosita. Metti un po'. Eh metti un po' a posto. Perché fa un po' schifo. Che cazzo viene a parare? Sto pulendo. Per una volta che cuculo sto pulendo. Jessica Fletcher. Ma per cortesia. E si allena sul pavimento. Jessica Fletcher una. Una maniaca dell'allenamento. Bene. Non mi aspettavo. Non mi aspettavo che era la mia Jessica Fletcher. Non me l'aspettavo per niente. Guarda come va tutta cazzuta. E che dice. Beh adesso. Conquisto. Dopo aver conquistato il mio allenamento. Conquisterò la partita a scacchi. Sto giocando da sola. Tutankhamon. Tutankhamon sfida. Sfida. Tutankhamon sfidala. Sfida Jessica Fletcher. Un uomo morto. Da centinaia di anni. Da migliaia forse. Jessica Fletcher. Non ci vai. E non ci è andato. Si è rifiutato. Tutti si rifiutano. Quando arriva Tutankhamon. Tutti si rifiutano. Hanno paura. Dalla sua esperienza. Evidentemente. Cosa. Senti Jessica Fletcher. Sai cosa facciamo? Vai a fare un po'. Eh. Vai a te allenare un pochino sul tapirulam. Voglio dire. No così per dire. Vediamo se la gente si rompe il cazzo. E si svegliano. Non mi frega un cazzo. E che sono pesanti. Che ha la gente. Cioè voglio dire. Uno che corre sul tapirulam di fianco. Un po' di casino ne fa. Cosa c'è Tutankhamon? Cosa c'è? E vai a lavorare. Tutte le volte mi devi chiedere. Cazzo Tutankhamon. Prenditi un po' di iniziativa. Quando vuoi andare a lavorare. Vai a lavorare. Come fanno tutti voglio dire. Che cazzo è? Tutankhamon. Grazie a tutti.